In Basilicata un altro decesso covid settantenne di Avigliano muore al San Carlo di Potenza e sono quattro i nuovi positivi emersi dai campioni processati ieri a Moliterno al via oggi la campagna di screening. Moliterno e Ersino e Tricarico individuati dalla regione e zone rosse avranno gli stessi benefici economici e fiscali dei primi comuni lombardi quanto ha dichiarato alla Camera il Governo accogliendo un ordine del giorno dell'onorevole Lucano De Filippo. Lunedì la ripartenza la FCA nello stabilimento lucano svuotamento delle linee ma per fare spazio ai nuovi modelli ibridi. Sono 4.400 le domande per l'accesso alla Cassa Integrazione in deroga pervenuti alla regione 1.500 quelle istruite per via delle procedure lente e farraginosa ad evidenziarlo l'assessore alle attività produttive Francesco Cupparo. Nella fase 2 la ripresa delle celebrazioni liturgiche con i dovuti accorgimenti. A Dinolfi sfrona la CEI, il Cardinale Bassetti scrive al Governo e il Popolo della Famiglia Lucana lancia il suo appello alle istituzioni. Buon pomeriggio ai nostri telespettatori, ben ritrovati in studio con l'informazione della nuova TG. Lo abbiamo sentito dai titoli nella nostra ampia pagina dedicata al coronavirus. Si registra un nuovo decesso, si tratta di un settantenne di Avigliano che è deceduto questa notte all'ospedale San Carlo di Potenza. Era risultato negativo ai tamponi di verifica. Quattro i casi positivi invece segnalati nel bollettino della Task Force regionale relativa ai 515 tamponi che sono stati processati nella giornata di ieri e nel comune di Moliterno. E' cominciato il primo screening a tappeto sulla cittadinanza. Sentiamo Michelangelo Russo. C'è una nuova vittima lucana per coronavirus e la seconda da Avigliano a distanza di soli sette giorni. Un imprenditore settantenne è morto nella notte al San Carlo. Era guarito dal virus ma hanno inciso le condizioni già compromesse con cui l'anziano era arrivato in ospedale un mese fa. ricoverato in terapia intensiva purtroppo non ce l'ha fatta. Sul bollettino rilasciato dalla Task Force non c'è però traccia del decesso proprio perché clinicamente la morte non sarebbe avvenuta esclusivamente per il Covid-19. Il primo cittadino di Avigliano, Vito Summa, ha inviato un messaggio di cordoglio alla famiglia, una persona stimata e apprezzata dall'intera comunità. In miglioramento invece le condizioni degli altri cittadini di Avigliano ricoverati. Su 511 tamponi processati sono 4 i casi di contagio della giornata, tutti riscontrati in comuni già colpiti. Pignola, Rionero, Invurture, Montescaglioso e Novasiri. Nei due centri materani i sindaci Stigliano e Zito fanno sapere che si tratta di cittadini appartenenti a nuclei familiari già da tempo in quarantena. Quattro anche le guarigioni. Pertanto i lucani positivi restano 229. Otto i pazienti diagnosticati in altre regioni residenti in Basilicata dove si trovano in isolamento domiciliare. Attualmente i pazienti ricoverati presso le strutture ospedaliere lucane sono 66, stabile il numero di quelli in cura presso i due reparti di terapia intensiva, vale a dire 7. I lucani in isolamento domiciliare sono ora 163 e in mattinata è iniziato a Moliterno il primo screening epidemiologico per comune allo scopo di scovare gli asintomatici e rilevare il grado di immunizzazione della comunità. 1.000 i tamponi da somministrare, 330 al giorno per tutto il weekend. Analisi che verrà estesa prossimamente anche alle cittadinanze di Tricarico e Il Sina, zone rosse lucane. E lo abbiamo sentito nel servizio appena mandato in onda, oggi a Moliterno è partita l'attività di screening su un campione della popolazione. Noi siamo andati nel centro lucano dove si stanno effettuando tamponi e test serologici come ci spiega il direttore dell'azienda sanitaria di Potenza, Bocchicchio. Ascoltiamolo. Questa mappatura per la completezza delle operazioni diagnostiche costituisce il primo esempio in Italia. Saprete che abbiamo scelto di combinare la somministrazione di tamponi nasofaringei che ci consentono di intercettare la presenza di cittadini positivi asintomatici o paucisintomatici con l'effettuazione di test sierologici che attraverso l'eventuale rilevazione di GG e DGM ci dicono anche dell'esistenza di infezioni pregresse che sono state superate e alle quali i cittadini si sono negativizzati. È un'analisi che assume a riferimento un campione statisticamente molto significativo, quanto mai necessaria per approcciare alla fase 2 perché tra le altre cose ci porrà nelle condizioni di conoscere sulla base di dati epidemiologici il tasso di immunizzazione della popolazione. Rappresenta l'ulteriore tassello di un percorso virtuoso che abbiamo avviato con l'istituzione delle unità speciali Covid-19 che stanno gestendo con grande puntualità per merito del lavoro dei nostri operatori tanto l'attività di monitoraggio sanitario per i cittadini che sono in isolamento domiciliare attraverso il triage telefonico, attraverso la somministrazione di farmaci, attraverso l'effettuazione di visite a domicilio che in maniera assolutamente tempestiva le attività di effettuazione di tamponi naso faringei. Non abbiamo più richieste pendenti, abbiamo avviato in maniera diffusa la mappatura di strutture che ospitano al proprio interno forme di comorbilità, più in generale forme di fragilità penso alle case di riposo, alle case alloggio, alle residenze sanitarie assistenziali, alle case di riabilitazione di disturbi psichiatrici, al personale sanitario e non sanitario dell'azienda. Tutto questo lo dico con orgoglio, lo dobbiamo alla professionalità, al senso di responsabilità dei nostri operatori che ringrazio a nome dell'azienda tutta. E Moliterno, Irsina e Tricarico individuati dalla regione come zone rosse avranno gli stessi benefici economici e fiscali dei primi comuni lombardi quanto ha dichiarato alla Camera il Governo centrale accogliendo un ordine del giorno dell'onorevole Lucano Vito De Filippo. Mara Risola Zone rosse uguali in tutta Italia. I comuni di Moliterno, Irsina e Tricarico individuati dai provvedimenti regionali come zona rossa avranno gli stessi benefici economici e fiscali dei primi comuni lombardi e veneti sottoposti a specifiche misure di restrizione perché considerati focolai nell'emergenza sanitaria. E' quanto ha dichiarato il Governo alla Camera accogliendo uno specifico ordine del giorno presentato dall'onorevole Lucano Vito De Filippo nella fase di approvazione del decreto cosiddetto Cura Italia. Le misure che la regione basilicata ha applicato per questi comuni infatti hanno determinato restrizioni più stringenti di quelle previste dai decreti del Presidente del Consiglio e quindi, secondo lo spirito che ha animato l'interrogazione parlamentare dell'ex Presidente della Regione, era doveroso riconoscere le attività commerciali, artigianali, imprenditoriali dalle stesse famiglie, iniziative adeguate per una più veloce uscita dalla crisi economica e dalla stessa emergenza sanitaria. Il Governo in aula rappresentato dalla Vice Ministra Laura Castelli si è impegnato a risolvere la questione nei prossimi provvedimenti che il Governo adotterà. Ovviamente, evidenziato il deputato di Italia Viva, non faremo mancare l'attenzione affinché questo impegno venga mantenuto. Lo sforzo che il Governo e il Parlamento stanno facendo per ridare forza all'economia e sicurezza sanitaria al nostro Paese è grande. Non sarebbero giustificate differenze di azioni e di opportunità per ognuna delle aree del nostro Paese colpite dalla pandemia da Covid-19. Come per Pasqua e Pasquetta sono scattati controlli delle forze dell'ordine che si vanno rafforzando in vista dei ponti del 25 aprile e del 1 maggio per verificare il rispetto delle prescrizioni governative e locali disposte per l'emergenza coronavirus ed evitare spostamenti in secondi abitazioni, luoghi turistici e verso località marine. La Polizia fa sapere che intensificherà i controlli sul rispetto delle prescrizioni. In un comunicato diffuso dalla Questura di Potenza si fa riferimento alle decisioni che sono state prese dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Saranno intensificati dalla Polizia i servizi di controllo su tutto il territorio provinciale finalizzati a verificare la sussistenza delle condizioni che legittimano gli spostamenti. Alla luce delle disposizioni governative i presidi sul territorio provinciale già assicurati dall'Ufficio Prevenzione e Soccorso Pubblico e dal Commissariato della Polizia di Melfi saranno intensificati con equipaggi del Reparto Prevenzione e Crimine e la Polizia Stradale. Controllerà gli spostamenti sulle autostrade e la viabilità principale, attenzionando i punti nevralgici delle direttrici nord-sud-ovest-est. Da parte della Polizia di Stato rinnovato l'invito a rimanere a casa e a muoversi soltanto nei casi previsti dai provvedimenti emessi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, portando con sé la autocertificazione. Nuove frizioni nella maggioranza in regione sulla vicenda Barresi, sull'ex DG del San Carlo si registra la netta presa di posizione di quattro consiglieri contrari alle scelte adottate dalla stessa giunta Celestino Benedetto. Le frizioni interne e le differenze di vedute non sono roba di questi giorni. Da mesi all'interno della maggioranza i rapporti non sono dei migliori. A dimostrazione di quanto la compagine politica alla guida di Via Reverrastro sia in mille pezzi, c'è il nuovo capitolo della vicenda Barresi. La nomina del DG del San Carlo, eredità della vecchia amministrazione Pittella, continua a lacerare le forze di governo. La giunta regionale, con il solo voto contrario dell'assessore Merra, con una delibera del 21 aprile scorso, ha proposto una nuova memoria difensiva al TAR, sull'illegittimità della nomina di Barresi alla guida dell'ospedale Potentino. Decisione che di fatto ha spaccato il centro-destra, contraria alla linea anti-DG i consiglieri Zullino della Lega, Pizziello di Fratelli d'Italia, Baldassarre di Idea e quarto di Basilicata Positiva. Prima si promuove, poi si boccia il senso della protesta dei quattro, che in una nota parlano di incomprensibile retromarcia, a meno di 12 ore dall'udienza del TAR, che avrebbe dovuto decidere sull'illegittimità della nomina. Buon senso avrebbe voluto, concludono i consiglieri, pensando al momento di grande tensione che sta vivendo la sanità italiana, che si lasciasse il giudizio sulla questione nelle mani dei giudici. Ciò che si chiede a Barresi è di sorvolare su questo ennesimo attacco e di andare avanti, continuando ad operare con la stessa dedizione e responsabilità. Non appena ottenute le omologazioni necessarie, la CMD di Atela donerà ai ventilatori polmonari all'ospedale San Caro di Potenza e al Madonna delle Grazie di Matera. L'azienda Lucana, che si occupa di progettazione e realizzazione di motore e soluzioni complesse per l'industria automobilistica nautica ed areonautica, ha impiegato una propria linea produttiva per produrre il dispositivo, che è stato presentato ieri in Prefettura a Potenza, alla presenza del prefetto, Annunziato Vardè, e di quello della città dei Sassi, Rinaldo Argentieri. In meno di 21 giorni gli ingegneri della CMD hanno realizzato il primo prototipo di ventilazione polmonare prodotto con sole risorse aziendali, grazie al fondamentale supporto dei medici e degli specialisti di terapia intensiva. Il progetto è stato illustrato dall'ingegner Francesco Iantorno durante l'incontro in Prefettura, al quale erano presenti anche i direttori generali delle aziende sanitarie di Matera e Potenza, Massimo Barrese e Gaetano Annese, effettuata anche una simulazione per dimostrare il funzionamento del ventilatore. Sono state attivate le procedure per l'omologazione e il futuro utilizzo del ventilatore nel sistema sanitario nazionale. Un 43enne egiziano è stato portato nel centro di permanenza per i rimpatri di Palazzo San Gervasio, nel vultore melfese, dopo che i carabinieri sono risaliti a contatti avuti dall'uomo con Anis Amri, l'attentatore che fece strage al mercatino di Natale di Berlino nel 2016, con il quale era entrato in relazione nel corso della permanenza presso un centro di accoglienza. L'uomo è stato trasferito al centro di Palazzo dopo le procedure di fotosegnalamento, in attesa delle successive operazioni di espulsione che gli impediranno per i prossimi dieci anni il rientro non solo sul territorio nazionale ma in tutta l'area Schengen. I carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria hanno eseguito il decreto di espulsione per motivi di sicurezza pubblica nei confronti del 43enne, che era domiciliato a Marina di Gioiosa Ionica nel Regino. Secondo le indagini l'uomo aveva cominciato un percorso di radicalizzazione dal 2015. La linea alla regia per una breve pausa pubblicitaria dopo. La moda, lo stile e il buongusto sono un modo per prenderci cura di noi stessi. Ora, per volerci davvero bene, dobbiamo rimanere a casa. Rimaniamo a casa. Redford Il popolo della famiglia di Basilicata rivolge un appello alle istituzioni chiedendo di ripristinare le celebrazioni delle liturgie cattoliche. Con gli opportuni distanziamenti e misure di protezione, la fase 2 deve riguardare anche la libertà di andare a messa sul nostro territorio e in tutto il paese. Non basta, dicono la promessa del ministro Lamorgese, si legge nella lettera inviata alle istituzioni dal popolo della famiglia, di far tenere i funerali, dicono, con la sola presenza dei parenti stretti. Se riaprono nei prossimi giorni addirittura i negozi e anche i ristoranti, reclamiamo come cittadini credenti anche l'accesso alla messa su sollecitazione del presidente nazionale del popolo della famiglia, Mario Adinolfi, il presidente della CEI, il cardinale Bassetti, con una lettera avanzato presso il governo Conte, un proposito netto in tal senso. FCA lunedì si riparte con l'ibrido nello stabilimento Lucano, 750 lavoratori tornano al lavoro per lo svuotamento delle linee, ma per fare spazio ai nuovi modelli bisognerà prima completare la costruzione di 600 veicoli non ibridi. I dettagli da Alessandro Panuccio. La sicurezza sul lavoro, soprattutto in relazione alla mobilità dei lavoratori, da tutelare in modo adeguato anche durante il tragitto casa-lavoro. È uno dei punti oggetto del vertice del Comitato di Sicurezza istituito tra sindacati e direzione aziendale dello stabilimento Lucano della FCA, per fare il punto sul protocollo sottoscritto dalle parti verificando nell'applicazione, in modo da poter ripartire garantendo la totale sicurezza. La ripresa, spiegano le segreterie sindacali di FIM, FIOM, WILM, FISBIC, UGL e AQCF, implica anche che la filiera dei trasporti si rimette in conto in sicurezza e a tal fine chiediamo un incontro urgente con la regione Basilicata e con la regione Puglia. Il primo step della ripartenza è in programma per lunedì 27 aprile. Intanto in una conference call, FCA ha informato le rappresentanze sindacali di aver inoltrato comunicazione al prefetto perché effettuerà attività di ricerca e sviluppo su Jeep Compass e Renegade modelli ibridi. Attività già in essere nello stabilimento al pilotino e all'affidabilità. A partire da lunedì 27 si legge nella comunicazione dei sindacati la condizione imprescindibile per poter produrre i veicoli prototipali ibridi e procedere preliminarmente allo svuotamento delle linee produttive mediante il completamento della costruzione di circa 600 veicoli 500X, Jeep Renegade e Jeep Compass in versioni non ibride che attualmente occupano le linee di produzione dello stabilimento. Lo svuotamento dei modelli ibridi verrà effettuato dal lunedì 27 aprile a giovedì 30 aprile e coinvolgerà circa 750 lavoratori al giorno. Infine, come richiesto dai sindacati, si è tenuto l'incontro con la RSA per verificare i numeri e l'organizzazione del lavoro per la prossima settimana. E sono 4.400 le domande per l'accesso alla Cassa Integrazione Inderoga pervenute alla Regione Basilicata 1500, quelle istruite per via delle procedure lente e farraginose. Ad evidenziarlo è l'assessore alle attività produttive Francesco Cupparo che risponde alle sollecitazioni della CISL Lucana. Isabella D'Andrea. La risposta non si è fatta attendere. In riferimento alle accuse di mobilismo mosse dal segretario della CISL Gambardella, l'assessore regionale Cupparo snocciola i numeri della gestione della CIG Inderoga, come sappiamo quest'ultima affidata dal Governo centrale alle Regioni. A fronte di 4.400 domande pervenute, fa sapere Cupparo, sono state istruite in 10 giorni lavorativi 1.500 domande e trasmesse all'Inps 741 per un totale di 1.672 lavoratori, 336.000 ore circa per un ammontare di 2.722.000 euro circa. Sta di fatto precisare a Sessore che solo 250 imprese hanno trasmesso il modello SR41 consentendo di procedere al pagamento della somma aspettante ai lavoratori. Si tratta di circa 350 interessati. La Regione Basilicata, commenta Cupparo, giudicando quanto meno ingenerose le affermazioni del segretario della CISL, è stata tra le prime regioni italiane ad inoltrare i flussi all'Inps. Come risulta dagli atti e rivendica, già dal 9 aprile abbiamo proceduto a trasmettere le domande istruite ed autorizzate, nonostante la modalità di lavoro in smart working e l'onerosità dei controlli per verificare l'esattezza dei dati, spesso non corretti, al fine di evitare il rigetto. Quanto ai 45 milioni di euro a cui il segretario Gambardella fa riferimento, Cupparo tiene a precisare che alla Basilicata ne sono stati destinati 31 milioni e in due tranche, rispettivamente di 15 e 16 milioni di euro. Il totale delle domande inoltrate all'Inps è inferiore rispetto a quello delle domande autorizzate, poiché il sistema informatico, come avviene in tutte le altre regioni, non consente di inviarne contemporaneamente un numero elevato e per poter caricare 100 domande occorrono circa 5 ore, a cui si aggiunge il tempo corrente per il passaggio delle domande dal sistema regionale all'Inps, che varia dalle 6 alle 12 ore. Si tratterebbe di disagi patiti da tutte le regioni, puntualizza infine Cupparo, le quali hanno chiesto un incontro con Ministero e Inps al fine di individuare soluzioni. Truffe online sono state scoperte dai carabinieri del Comando Provinciale di Potenza che hanno denunciato 5 persone con le accuse a vario titolo di truffa, indebito, utilizzo e falsificazione di carte di credito e pagamento e accesso abusivo ad un sistema informatico. Le vittime delle truffe, per un totale complessivo di circa 1800 euro, sono cittadini residenti a Ruvo nel Monte, Melfi, a Cerenza e a Bella. Mascherine gratis per tutti è l'iniziativa della Proloco di Calciano, che da alcuni giorni sta distribuendo dispositivi di protezione personale a esclusivo uso civile. L'iniziativa della Proloco è stata resa possibile grazie alla collaborazione con l'Associazione Vivere Donna di Potenza che ha realizzato i dispositivi per la comunità calcianese. Al momento sono in distribuzione oltre 500 mascherine a cura dei volontari ed eventualmente ne verranno consegnate altre nei prossimi giorni. I dispositivi di protezione personale distribuiti in un numero adeguato ai componenti di ciascuna famiglia rappresentano, secondo la Proloco, un piccolo contributo ma che in questo particolare momento appare indispensabile per contrastare il rischio di contagio dal virus e la diffusione della pandemia in paese. Ed è l'ultima notizia, ma non andate via perché subito dopo ci sono le previsioni del tempo a cura del nostro meteorologo Gaetano Brindisi. Da parte mia è tutto, grazie per averci seguito, arrivederci. E ben ritrovati sulla Nuova TV, ancora una volta lontano dallo studio, speriamo ancora per poco, speriamo che effettivamente il 4 dal 4 possiamo ritornare gradualmente alla normalità. Parliamo del tempo e vediamo finalmente una situazione di miglioramento, ormai sono diverse settimane, nel weekend il tempo migliora per poi peggiorare nel corso della settimana. Questo è un dato sicuramente positivo perché la pioggia è sempre utile e ci sono state delle piogge davvero importanti sia nella giornata di lunedì che in quella di mercoledì con diversi millimetri di pioggia che soprattutto nelle zone, alcune zone del Potentino sono state significative. Pensiamo ai 52 millimetri di Melfi o di Lavello, 54 in una sola giornata, però pioggia che poi si è avuta nell'arco delle 24 ore, quindi in modo graduale, non abbiamo avuto grossi picchi temporaleschi, quindi un pioggia utile all'agricoltura, servono alle falde acquifere, servono alle dighe sempre più in carenza di acqua, quindi una situazione che sicuramente è positiva. Le piogge in questo periodo soprattutto sono davvero positive in vista di una stagione estiva che ancora non sappiamo come possa svilupparsi. Vediamo l'immagine del satellite e si nota un'Europa con tanta luminosità sulla parte occidentale, sempre alle prese con le depressioni atlantiche, la depressione atlantica sforna perturbazioni una dietro l'altra, però vanno a infrangersi col muro dell'alta pressione. L'alta pressione che è presente, vedete, sull'Europa centro-orientale, si nota però una perturbazione a carattere freddo tra la Germania e la Polonia, sta scendendo verso l'attitudine più meridionale, però il movimento non è verso l'Italia, ma verso i Balcani, quindi l'area balcanica dove andrà a esaurire la sua corsa. Vediamo lo zoom sull'Italia, notiamo una penisola sgombra da nubi, si nota solo della nuvolosità sull'estremo meridione, quindi Sicilia, Calabria, dove sono in alto anche delle piogge sparse, e della nuvolosità presente nell'area ionica, quindi tra Puglia e Basilicata orientale, quindi nel complesso, vedete, l'Italia è completamente senza precipitazioni e senza nubi soprattutto. Con questa premessa andiamo a vedere quindi la situazione prevista per la sera e per la notte e abbiamo una situazione di cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, qualche addensamento ancora sulle zone ioniche, che ve lo vedevamo, per via di questa nuvolosità ancora presente, legata a una perturbazione che ormai se ne è andata verso la Grecia. Vediamo a questo punto la previsione per domani, una situazione che vede una giornata di sabato all'insegna del bel tempo su tutta la Basilicata, cielo splendente, ancora in mattinata forse un po' di nuvolosità sull'area ionica, sulle zone più meridionali, quindi l'area pollino, nel complesso invece per il resto una situazione con tanto sole, poche nubi, insomma una giornata splendente, peccato da non poterla vivere all'aria aperta e dover rimanere a casa. Le temperature sono in lieve diminuzione nei valori minimi per via del cielo sereno, quindi 4 gradi a potenza e 8 a Matera, però le massime tornano a salire su valori al di sopra delle medie stagionali di aprile, insomma di diversi gradi, 3-4 gradi in più della media, e abbiamo 18 gradi a potenza e 22 gradi a Matera. Ventilazione da ovest, anche un po' sostenuta forse sull'area penninica, nord-ovest sull'area del materano, con mari che sono calmo il tirreno e poco mosso sarà lo ionio. Spostiamoci alla domenica, quindi previsione per domenica, un aumento della nuvolosità è prevista su tutta la regione, non sono previsti però fenomeni, quindi avremo sole alternato a delle nubi in arrivo da ovest, soprattutto sulle aree centro-meridionale, un po' più di schiarita avremo nell'area nord, ma al complesso comunque il tempo rimarrà buono o al massimo discreto. Vediamo il quadro delle temperature, rimangono grossomodo stazionarie, 4 gradi a potenza alla minima, 8 gradi a Matera alla minima, le massime 18 a potenza, forse scendono 1-2 gradi su Matera per via dello scirocco che comincia a insorgere, quindi lo scirocco porta aria dal mare, sappiamo che il mare in questo periodo è ancora un po' fino fresco, quindi l'area dal mare mitica leggermente le temperature sull'area del Materano, soprattutto sulle zone ioniche. Il mare ionio rimane appena appena mosso, mentre lo ionio, il tirreno, chiedo scusa, rimane praticamente calmo. Ci spostiamo a lunedì, questa nuvolosità di domenica si farà via via sentire in maniera maggiore nella giornata di lunedì quando sono previste delle piogge, soprattutto sull'area del Potentino, le aree interne, soprattutto quindi l'area centro-occidentale, man mano che ci spostiamo verso l'est, messo la provincia di Matera, la probabilità di precipitazioni pur rimanendo comunque tende a diminuire, perché appunto la zona è protetta dall'Appennino, le venti da sud-ovest vanno a infrangersi contro l'Appennino e quindi anche le nubi. E niente, le temperature a questo punto lunedì, con le piogge e con la nuvolosità, tendono a scendere nei valori massimi, soprattutto sul Potentino. Lo vediamo anche dall'ultimo grafico, quello degli spaghetti, temperature al disolvo delle medie per i primi 4-5 giorni, con valori che si riportano anche di 2-3 gradi al disolvo delle medie stagionali, poi tra fine mese e inizio maggio avremo la tendenza a un calo delle temperature, ma un calo contenuto, potete vedere che rimaniamo più o meno nelle medie, al massimo scendiamo di 1-2 gradi, non ci saranno quindi grossi picchi né di diminuzioni né di aumenti nei prossimi giorni. Le precipitazioni dovrebbero riprendere a cadere, proprio in corrispondenza di martedì, mercoledì, a parte quelle di lunedì che saranno deboli, poi qualche temporale potrebbe aversi tra il 30 e il 1 maggio, insomma vedremo poi nei prossimi giorni questa situazione e come evolverà. Per il momento non mi resta che augurarvi un buon weekend, nonostante a casa un weekend fatto di serenità, soprattutto e di fiducia per una riscoperta dei valori all'aria aperta che veramente ci cominciano a mancare, è inutile dirlo questo, ci manca proprio la libertà e stiamo uscendo fuori per fortuna. Arrivederci a tutti e buon weekend sulla Nuova TV. Grazie a tutti.